Due insegnanti di un asilo privato sono state denunciate per maltrattamenti aggravati ai danni di alcuni bambini di età compresa fra i sei mesi e i due anni. Secondo gli elementi raccolti, anche attraverso riprese e video, le maestre avrebbero percosso i piccoli affidati alle loro cure, tenendoli a volte in condizioni di carenza igienica. I bimbi in alcuni casi venivano adagiati su pavimenti dei bagni in attesa del cambio del pannolino e senza essere lavati.